Ok, bentornati. È tipo l'ottava volta che provo a fare questo video e tutte le volte finisco col fare spoiler. Parlare di madre, punto esclamativo di Darren Aronofsky, senza fare spoiler, significa non rendere giustizia a quanto di buono c'è nel film. Punto. Ci ho provato, giuro, ci ho provato a non fare spoiler, ma quello che rimane è una coppia è in crisi ma resiste. Questi due resistono l'uno per l'altra finché elementi di disturbo esterni non compromettono i già precari equilibri nella coppia e tutto scoppia. Se non vuoi fare spoiler, ti devi fermare qua. E il film potrebbe sembrare una di quelle stronzate che mandano su Rete4 alle 5 del pomeriggio, ma la verità è che non è così. Quindi... Facciamo così. Facciamo la parte non spoiler molto molto stringata, la facciamo molto molto breve, in cui sostanzialmente vi parlo di me. Perché è l'unica cosa su cui non posso far spoiler. Vi parlo di come ho visto io il film, di come mi è arrivato, di come mi siano piaciute alcune cose, ma non vi dirò quali cose, vi farò soltanto capire stilisticamente parlando quali sono le scelte che mi sono piaciute. Poi farò una seconda parte in cui, bene o male, andrò a parlare di quelle che sono le centinaia di interpretazioni che uno può dare a questo film, qual è l'interpretazione che gli ho dato io invece, qual è la cosa che mi ha trasmesso da subito. E sostanzialmente andrò a parlare di alcuni piccoli miracoli che sono stati fatti in termini di messa in scena. Perché alcune cose, in questo madre punto esclamativo, effettivamente sono difficili da fare. Allora, prima parte, non spoiler. Allora, questo non è un film così semplice come l'ho descritto prima, ovviamente. È un film che presenta tantissime allegorie ed è un film che non va preso assolutamente alla lettera. È molto molto simbolico tutto ciò che viene mostrato, ma la cosa interessante è che nonostante questa sua natura non oggettiva, noi vediamo personaggi molto veri nelle reazioni, perlomeno i due protagonisti, che però sono contornati da una folta schiera di personaggi secondari assolutamente scellerati e che, visibilmente, vistosamente, sono umani sì, ma decisamente non credibili. Questa è un po' la magia di madre. È sempre sul filo. Per lo meno, per buona parte, il film si muove su binari che tu potresti anche credere plausibili, ok? A un certo punto no. A un certo punto il film si mostra per quello che è, butta giù la maschera e ti fa vedere tutta la potenza allegorica possibile, immaginabile, senza più prendersi la briga di nascondersi sotto una facciata di realismo. Non assolutamente si dimentica questa cosa. Ed è che può essere descritto semplicemente da quella che è la trama, perché la trama è quanto di più normale ci sia al mondo. Qualsiasi coppia un po' in crisi tende a piegarsi, tende ad avere dei problemi se si intromettono degli agenti esterni nel rapporto, no? Agenti esterni ovviamente di tipo non positivo. Ora, quello che ha restituito a me, madre, come sensazione, se penso a madre, se penso a una parola per descrivere il film, è frustrazione. Frustrazione. Vi ricordate quando ho parlato del sacrificio del cervo sagro, dicendo che quel film era riuscito a trasmettermi un disagio fortissimo e anche un profondo imbarazzo. Bene, questo madre punto esclamativo è invece proprio frustrazione. Sul finale è addirittura rabbia. È un film che mi ha innervosito da morire. Se mi avesse chiamato il solito cacacazzi di un operatore telefonico per propormi un nuovo piano quella sera durante la visione di madre, l'avrei mandato a fanculo. E io sono una persona generalmente molto educata, con chi sta al call center, al massimo cioè, per togliermi dai coglioni, sono quello che dice, no, mi dispiace, sto lavorando e chiudo. Cioè, questo è il massimo che faccio. Una volta ho detto, no, mi dispiace, non c'ho il telefono. Ma era proprio perché volevo divertire. Però, insomma, il punto è che è riuscito a... a mettermi addosso il nervoso. E sono stato nervoso per una buona ora dopo la fine del film. Quindi, dico che è un film molto potente. Non è sicuramente un film che riguarderei. Non è un film che metto sul palmo della mano e porto in cielo. Però è un film che è riuscito a colpirmi. E questa... questa cosa deve pur valere qualcosa. Ora, è un film che è autoriale, molto molto autoriale, e secondo me il buon Aronofsky ha deciso di intraprendere questa strada così decisamente autoriale dopo il suo Noah. Perché Noah era uno strano misto. Io non sono neanche riuscito a finirlo di vedere per quanto mi ha rotto il cazzo. Noah era uno strano misto perché voleva avere un po' i toni da film da colossal biblico, con l'appeal visivo del Signore degli Anelli e con ovviamente la reinterpretazione deviata degli eventi. A me non è piaciuto. Non l'ho neanche finito, però fin dove sono arrivato veramente mi ha scartavetrato le balle. Non lo so. Sarà che non sono il più grande fan di Russell Crowe, non sono il più grande fan di Emma Watson, quindi anche gli attori non erano un motivo per guardare. Insomma, me lo sono proprio scagato. Però forse ha voluto riprendere in mano alcuni riferimenti biblici e fare una versione molto più autoriale di quel riferimento biblico, di quell'universo. Anche se tra le tantissime chiavi di lettura che uno può dare a questo film, quella che mi è arrivata di più è una chiave di lettura molto meno divina e molto più umana e poi ve ne parlo. È un film che dico che è autoriale non solo perché comunque sia sfrutta l'elemento allegorico, sfrutta il simbolismo, perché veramente appena uno fa una cosa un po' simbolica, autoriale, no. Secondo me il film autoriale è un film che prende una direzione stilistica e la mantiene a testa bassa per tutta la durata. Questo è un film super autoriale per quelli che sono i miei parametri perché il buon Aronofsky decide di dare un punto di vista di un certo tipo al film e quel punto di vista in nome di Dio non viene abbandonato mai. Il punto di vista è quello dell'invasione dello spazio personale, che è poi il fil rouge anche di quello che accade nei rapporti tra i vari personaggi, ma pone anche te, spettatore, come un invasore dello spazio personale. Infatti la protagonista Jennifer Lawrence, che non ha un nome, semplicemente la protagonista, non viene mai chiamata esattamente come Javier Bardem, non sappiamo come si chiami, viene stalkerata da te che guardi il film perché la camera, il tuo punto di vista, è incollato alla sua nuca o alla sua faccia. È come se l'operatore di macchina fosse attaccato a Jennifer Lawrence come un koala in questo modo e la riprendesse da dietro. Sei appiccicato a lei, tutto quello che vedi è filtrato dal suo punto di vista. C'è sempre la sua testa di quinta, molto ravvicinata. Tu sei sempre in questo primissimo piano. Insomma, se noi fossimo davvero così vicini a Jennifer Lawrence, quella emetterebbe un'ordinanza restrittiva, povera figlia, perché tutto il film tu le sei incollato. E questa cosa, l'invasione dello spazio personale, non è soltanto nella trama. Sei pure te, spettatore, che rompi il cazzo. Ti costringono a romperle il cazzo, a starle così incollato. Ecco, questo, secondo me, è prendere una decisione e mantenerla in maniera costante, senza mai venir meno a quello che è il tuo intento a livello di messa in scena e a livello anche di rapporto con lo spettatore. bello, mi è piaciuto tantissimo, anche se il film, essendo abbastanza lungo, comincia a pesare. Questa tua invadenza involontaria, perché tu non vorresti stare così appiccicato a sta povera disgraziata, che poi nel corso del film ne passa di tutti i colori, quindi comincia a sentirti anche tu a disagio a starle così vicino. Questa cosa così forzata è sicuramente una cosa che dopo la prima ora del film comincia a diventare pesante e vorresti ogni tanto un'inquadratorina un po' più larga. Infatti quando ci sono quelle inquadrature tu lo avverti proprio, lo avverti come un cambio di registro drammatico, cosa che in un altro film sarebbe normalissimo. Ogni tanto un'inquadratura più larga non ci fai caso. Qui invece quando c'è un'inquadratura larga fai... Meno male, guarda. E poi niente, poi torni ossessivamente su Jennifer Lawrence. Questo mi è piaciuto, mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto molto meno dal punto di vista narrativo, perché ripeto, quando tu crei un'opera che vuole essere aperta a mille mila interpretazioni e quando tu fai riferimenti ai testi sacri, devi sempre stare attento. Secondo me bisogna stare attenti che la storia resti comunque comprensibile stand alone, che sia comprensibile almeno su uno dei piani di lettura. Per esempio se tu non hai mai letto la Bibbia, non hai mai letto la Genesi, l'Antico Testamento, certe cose di sto film non capisci da dolle apprese, esattamente come nel Sacrificio del Cervo Sacro, non conoscendo quel mito greco, tu non ti puoi gustare questo intreccio tra il film e il... Non puoi. Quindi questo, dico, non mi ha fatto impazzire su quel punto di vista, ma a livello di scelte stilistiche messe in scena e soprattutto anche la performance attoriale, il film mi ha colpito veramente tanto. La cosa che mi ha colpito di più, però, sarò egoista, è proprio come mi sono sentito io guardandolo. Cristo che ansia! Cristo che nervosismo, che frustrazione che mi ha messo addosso! Una roba incontrollabile, veramente incontrollabile. Detto ciò, ve lo consiglio, non ve lo consiglio per una serata gradevole, perché il film non è gradevole. È un film che dovete vedere in una serata in cui avete voglia di guardare qualcosa di strano, di particolare, una serata in cui magari avete voglia di un cinema duro, un cinema che non vi dia speranza, un cinema che non vi dia divertimento, un cinema che sapete fin dall'inizio che vi stenderà come un incazzotto qua sotto l'orecchio. Questo è. Non vi mentirò, funziona così. Sono andato a dormire incazzato. Spoiler, ok? Adesso facciamo la parte spoiler. Penso di aver detto molto, già, però adesso proprio parlo della struttura del film. 3, 2, 1, uomo avvisato, mezzo salvato. Il film parte in maniera tutto sommato credibile. A parte questa nostra invadenza nei confronti di Jennifer Lawrence e starle attaccati dietro l'orecchio, il resto sembra procedere su binari abbastanza normali. La tensione però si sente. La tensione tra Jennifer Lawrence e Javier Barden si sente tantissimo. Ragazzi, io uso i nomi degli attori perché io non so come si chiamano i personaggi, quindi Jennifer Lawrence e Barden sono i due personaggi, senti la tensione tra questi due. Ed è una tensione tutto sommato abbastanza credibile. È incredibile la pazienza di lei, la devozione di lei che questa si rimette su una casa da sola per lui. Vive in un posto isolato dal mondo perché lui vuole stare lì. Insomma, tutta una serie di cose che fanno respirare tensione, però è una tensione d'amore. Cioè, lei che si sacrifica per lui, che fa tutto. Lui c'ha il blocco dello scrittore. Ti sta sul cazzo perché dici, vabbè, ma c'è il blocco, non fai una minchia dalla mattina alla sera, dalle una mano, dai due martellate pure te. Invece c'è lei che ristruttura la casa mentre lui si giratta la ciolla tutto il tempo. Cosa che dà fastidio allo spettatore. Però è una cosa normale, perfetta. A un certo punto arrivano questi due nuovi personaggi. Tra l'altro c'è una Michelle Pfeiffer che è odiosa. Madonna le mazzate che le daresti. Bravissima, bravissima. Poi è perfetta nel ruolo, eh. Michelle Pfeiffer invecchiata, quindi con un po' di ritocchi, un po' il gommista sugli zigomi, no? Il falciaerba qua sotto sul doppio mezzo. Insomma, Michelle Pfeiffer in questo stato, cioè quindi in questa vecchiaia non troppo rassegnata che è lei. Con questo personaggio stronzissimo, fastidioso. Madonna ti fa salire, l'incazzatura te la fa salire proprio con la motopompa. E quello che non sapevo era che era soltanto un inizio. Perché questi due rappresentano il livello easy. È un'incazzatura che bene o male tu riesci a gestire. Infatti il personaggio di Jennifer Lawrence in questa fase è sicuramente disturbata, però non ancora sta sbroccando del tutto. Avrà tempo di sbroccare, perché nell'ora e mezza successiva di film succede di tutto. Ora, siccome la parte spoiler, non mi faccio problemi a dirlo. Allora, la cosa che mi ha colpito, veramente mi ha stupito fortemente, è l'effetto fantozzi che c'è in una particolare parte del film. A un certo punto, quando cominciano ad entrare tantissime persone in questa casa, e ovviamente ognuno fa quel cazzo che gli pare, trombano sul loro letto, sputano per terra, cagano sulle tende, fanno un bordello. Ecco, tu cominci a vedere questa situazione come una situazione abbastanza surreale. Però è pure vero che se tu prendi 100 persone e tutte 100, le selezioni perché siano tra le più scellerate del pianeta, puoi ottenere quella situazione. La cosa bella, la cosa interessante è che sulla carta tutta la gente che entra in casa è fan di Javier Bardem, che in questo film è tipo un poeta, no? Quindi dovrebbero essere persone sensibili. Se questa è gente che si legge libri di poesie, tra virgolette, che poi non so poesie perché quando entri nello studio di Bardem vedi al muro appesi dei fogli su cui lui ha puntato delle idee, ma ci sono degli scarabocchi e lui non scrive davvero, ok? Ecco, tecnicamente se fossero persone che seguono la poesia non dovrebbero comportarsi così, dovrebbero essere persone acculturate, persone molto molto pacate, molto sensibili e invece è la peggiore umanità possibile quella che entra in casa loro. Qui comincia l'assurdo, proprio l'assurdo, no? Ma c'è un momento in cui tutto ciò esplode perché cominciano ad arrivare dei soldati armati, cominciano a sgozzarsi tutti, a spararsi addosso. Questa cosa mi ha ricordato? La battuta di caccia fantoziana in cui Paolo Villaggio e Gigi Reder, Fantozzi e Filini, decidono di fare sta domenica a caccia, quindi vanno nel bosco col fucile in spalla. All'inizio la battuta di caccia è, sì, è assurda, fantoziana, divertente, con questi cacciatori che per sbaglio si sparano a vicenda, con loro che usano la fionda, insomma, cazzate, tipiche fantoziane, per poi degenerare tutto in un conflitto bellico, con tanto di aerei da combattimento, carri armati, cacciatori che si riparano dietro le trincee, no? Divertentissimo, una roba da ammazzarsi e da ridere, perché? Perché racconta in maniera estremamente iperbolica la capacità dell'essere umano di mandare in bacca qualsiasi cosa e di fare sostanzialmente di tutto un conflitto. Bellissima, una scena incredibile che però ha una chiave di lettura importante e divertente, cioè tu ridi, però se ci rifletti un attimo capisci che si sta guardando una cosa abbastanza critica verso la natura umana. In questo film c'è la stessa cosa, cioè a un certo punto entrano dei soldati in casa, fanno irruzione dalle finestre, iniziano a sparare, però cazzo non ridi, non ridi, nonostante sia una cosa assurda, nonostante sia chiaramente una cosa troppo iperbolica per essere accettata e per essere guardata con la faccia seria, però non ridi. E qua penso, in questo punto credo che si veda la bravura di Aronofsky nel restituire certe cose, perché se tu spingi troppo sull'assurdo, strappi la risata o comunque fai il giro e diventi ridicolo. Lui nonostante spinga tantissimo sull'acceleratore, lo fa in maniera talmente tanto graduale, lo fa in maniera talmente tanto furba, lo fa con una messa in scena talmente tanto equilibrata, soprattutto sfruttando così bene le reazioni di Jennifer Lawrence, che anche se succedono queste cose, no? Che sono assurde e te verrebbe da ridere, poi staccano sulla faccia di Jennifer Lawrence. guardi lei, che è devastata, hai paura per lei e non ti viene da ridere. In una situazione che farebbe ridere. Dai, in casa ti entrano due battaglioni di soldati che si sparano, ma non ridi. No, non ridi. Ok? Questa è la cosa che in assoluto mi ha colpito di più. C'è la scena finale con il sacrificio del figlio di lei che è abbastanza orribile, in effetti, però non mi ha colpito come questa, dal punto di vista proprio della messa in scena, non mi ha colpito come questa svolta con i soldati. Lì proprio mi stava partendo l'applauso. La scena col bambino è molto molto forte, immagino che anche magari per una madre guardare quella scena sia la cosa peggiore dell'universo. In effetti credo che Aronofsky non si sia proprio regolato, non si è sbattuto al cazzo. Ha fatto la cosa più truce che poteva fare e l'ha fatta sapendo di colpire un punto debole, di colpire sotto la cintura tantissimi spettatori, me compreso, tra l'altro. Però, ripeto, se dovessi scegliere una chiave di lettura che non sia quella biblica, che tra l'altro è anche qui molto distorta, se vogliamo, per me la chiave di lettura migliore è proprio quella dell'invadenza. Invadenza intesa come la capacità del genere umano di, si dice dalle mie parti, entrare di taglio e mettersi di piatto, cioè di entrare timidamente nelle cose per poi prendersi tutte le libertà del caso. È quello che abbiamo fatto al pianeta, è quello che stiamo facendo con la natura, è quello che stiamo facendo perché abbiamo, purtroppo, tutti, me compreso, questo istinto parassitario di appropriarci di tutto quello che ci sta intorno o di modificarlo perché sia comodo per noi. Ed è quello che succede in questo film. L'umanità intera passa dentro quella casa, la massacra, la distrugge e la cosa peggiore è che il personaggio di Javier Bardem, lo scrittore, si bea di tutti i complimenti che questa gente gli fa, della compagnia, dell'importanza che gli danno e trascura del tutto l'amore di Jennifer Lawrence, il fatto che lei si sia fatta un mazzo tanto per rimettere a posto la casa. In effetti, se vogliamo vedere il personaggio di Javier Bardem in maniera biblica, possiamo anche pensare a lui come a un dio che sostanzialmente non riesce ad essere così tanto dio ed è molto umano pure lui. Noi siamo fatti a sua immagine, quindi pure lui è un pezzo di merda e dà per scontato l'amore di Jennifer Lawrence, il culo mazzo che si è fatta lei per rimetterle a posto la casa e quindi lascia che chi lo idolatra possa distruggere tutto quanto. È molto strano come film perché in effetti io lo trovo bello, ma il fatto di averci così tanta interpretazione, il fatto di avere così tante chiavi di lettura per la mia visione delle cose non è mai una cosa troppo positiva. Preferisco che un film autoriale abbia una visione bella, potente, univoca, esattamente come è la messa in scena di questo film perché lì niente da dire veramente, cioè ci vuole coraggio per girare tutto un film in questo modo, veramente coraggio e funziona, funziona da dio. Quando invece si va sul così, vedici quello che cazzo te pare, lo sapete, sono fatto così e mi convince meno, però questo madre, punto esclamativo. Ve lo consiglio, non per una serata gradevole, ma ve lo consiglio anche soltanto per farvi un'idea di cosa significhi scegliere di fare qualcosa in maniera autoriale. Significa dover rinunciare a tantissime cose, perché quando scegli una via autoriale devi essere coerente a quello che hai scelto. Significa anche scontentare una parte del pubblico, senza dubbio. E questo è il motivo per cui tanti film che puntano al vasto pubblico sono così mosci, perché devono dare sempre un colpo al cerchio e uno la botte, un colpo al cerchio e uno la botte, invece questo madre dà colpi sì, ma non al cerchio e alla botte, te li dà direttamente nei coglioni e ti fa male.